Siamo qui in presenza dell'assessore Giannini, assessore regionale dei trasporti, perché ha avuto questo incontro qui ad Altamura perché la regione è protagonista di un finanziamento credo di 8 milioni di euro per un progetto riguardante le acque reflue. Sì, si tratta di un progetto che non riguarda le acque reflue, è un progetto che sistema la faccenda del depuratore, praticamente interviene anche sul torrente Iesce risolvendo un problema ambientale di tutta l'area della masseria Iesce della zona circostante. È un problema che Altamura si portava dietro da molti anni, è un problema che produrrà degli effetti positivi sull'ambiente, è un problema che metterà Altamura nelle condizioni di affrontare Matera 2019, capitale della cultura, insieme all'altro progetto di realizzazione della pista ciclabile che da Matera arriverà passando per Altamura e Gravina e poi Giorcini a Castel del Monte, inserendo tutta l'area nel percorso, nel circuito del percorso ciclabile europeo Eurovelo che parte da Londra, dall'Inghilterra e arriva fino a Brindisi. Noi sul discorso delle acque, della depurazione delle acque ad Altamura stiamo affrontando la questione da un doppio punto di vista. Inizialmente siamo partiti con l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione perché la qualità delle acque in uscita trattate è condizione essenziale per parlare di riuso. E dall'altra parte ora stiamo affrontando la questione della sistemazione del torrente Iesce che in questi anni ha subito tutta una serie di insulti, ma tengo a precisare non soltanto dall'acquedotto pugliese, l'acquedotto è dall'impianto di depurazione. L'impianto di depurazione ci ha messo del suo, però in quel torrente viene scaricato ben altro. Allora noi stiamo affrontando la questione per garantire la tutela ambientale che è la condizione necessaria per poi passare a riutilizzare le acque in vari usi che possono essere agricoli ma anche civili per la pulizia delle strade per esempio. Una conferenza stampa riguardante la presentazione sul progetto delle acque reflui. Abbiamo qui ovviamente il primo cittadino che ci può spiegare di che cosa si tratta. Parleremo del riutilizzo delle acque reflui in agricoltura, un progetto ambizioso e ancora una volta la protagonista è la nostra città con un intervento importante della regione. Ancora una volta Giannini vuole puntare su Altamura, la città più grande dopo Bari, su progetti concreti, su progetti che vanno a rivalutare un po' quello che è l'intervento in agricoltura. L'agricoltura che sta vivendo un periodo difficile e quindi un intervento del genere non potrà che essere utile a tutti gli agricoltori. Pensate un po' l'acqua, gli agricoltori la pagano a 3 euro al metro cubo. Adesso con questo progetto si potrebbe arrivare anche a 0,25 centesimi al metro cubo. Quindi grazie ancora una volta all'assessore, in modo particolare all'assessore Giannini che presenterà anche definitivamente il progetto del Torrente Iece. Un percorso iniziato ben tre anni fa dal sottoscritto quando ero consigliere regionale. Abbiamo presentato in quest'aula consigliare quel progetto. Finalmente la regione, dopo un inter di tre anni, ha messo a disposizione gli 8 milioni di euro, 8 milioni e 8 per la sistemazione definitiva. Quindi un problema che è annoso. Dopo 40 anni viene risolto, viene risolto da un impegno dell'allora consigliere regionale Giacintoforte, oggi sindaco, che ha portato a termine questo risultato. Quello che qualcuno scrive è veramente ridicolo perché ancora una volta io parlo con le carte alla mano, non parlo soltanto senza documentazione. Se c'è qualcuno che vuol prendersi meriti, che non ha, deve venire a dimostrare il suo impegno, qual è stato, quando è stato e dove è stato. Ci sono i cittadini che possono testimoniare quello che è stato fatto anche su questo progetto. Qualcuno ha scritto oggi dicendo l'ho proposto al sindaco. Lo ha proposto un po' tardi perché oggi viene l'assessore su un impegno che è stato già preso qualche mese fa per la realizzazione di questo ulteriore progetto nella nostra città che porterà tanti altri soldi. Ovviamente l'amministrazione forte si occuperà di controllare perché questi soldi siano realmente investiti e che si realizzino sino alla fine questo progetto. Ma assolutamente sì, è in essere il progetto per l'ampliamento del depuratore della nostra città. Da 67.000 a 99.000 abitanti, quindi i soldi ci sono, li stanno spendendo, ci sarà bisogno di qualche mese in più per terminare quel progetto. Abbiamo valutato e seguiremo puntualmente così come la mia amministrazione fa tutti i giorni recandosi personalmente, personalmente sui lavori pubblici e verificando quello che si sta facendo e tante volte dando anche dei consigli evidenti che qualcuno, anche se esperto, non riesce a vedere. Tanto si parla sempre di soldi pubblici e anche su questo ci sarà un attento controllo della mia amministrazione e mio personale.